regionale per sordi. Partiamo subito con la cronaca. È stato accoltellato alla tempia e al collo per un debito di 20 euro. È accaduto ieri poveriggio a Firenze in piazza Vittorio Gui vicino al teatro del Maggio dove un 25enne Gambiano è stato aggredito da un connazionale. Già nota alle forze dell'ordine la vittima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova dove ha ricevuto una prognosi di 21 giorni. Il 25enne avrebbe raccontato di aver incontrato il connazionale di cui non conosce il nome per chiedergli di saldare un debito di 20 euro. L'alto però avrebbe reagito prima colpendolo con calcio e pugni e poi sferrandogli una coltellata che lo ha ferito a tempia e a collo. Qualcuno poi ha chiamato il 118 e all'arrivo della volante c'erano connazionali della vittima che si sono però subito allontanati. In zona non ci sarebbero telecamere di sorveglianza per poter al momento ricostruire l'aggressione. Colpo grosso in una villa nel quartiere delle cure a Firenze. I ladri hanno rubato gioielli per un valore di 300 mila euro. A denunciare il furto la proprietaria quando ha scoperto che i monili di famiglia erano spariti sul posto. Intervenuti gli agenti del commissariato San Giovanni. I malviventi sarebbero entrati in azione intorno a mezzogiorno di ieri portando via il piccolo tesoro della donna. Non è il momento di fare ulteriori strappi, forzature e scelte unilaterali. Anzi è necessario da parte dell'azienda uno sforzo per ripristinare un clima di condivisione. Così Valerio Fabiani, consigliere del presidente della regione toscana Gianni per lavoro e crisi aziendali, intervenendo sulla vicenda dello stabilimento ex GKN di Campi. Che aggiunge, chiedo che ci si fermi e che anche le attività di smaltimento materiali tornino al centro di un confronto fra azienda e rappresentanze dei lavoratori. Sulla loggia Isozaki il nostro problema non è rallentare o frenare i progetti, soprattutto quelli che vengono da lontano, frutto di concorsi internazionali, ma di realizzarli. Spero di convincere Sgarbi, ne abbiamo già parlato con lui, sono fiducioso di trovare qualche accordo che permetta di procedere con il progetto. Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella, oggi durante un'iniziativa in Palazzo Vecchio, che poi ha aggiunto, prima vedrà il ministro San Giuliano entro la fine di questo mese, con il quale ieri si sono scambiati alcuni messaggi sulla legge per la tutela dei centri storici. Ora parliamo del Next Generation Fest, evento della regione toscana dedicato alla generazione Z che si sta svolgendo oggi. Tridom per questa occasione ha donato 100 alberi al pubblico presente attraverso un codice QR proiettato sul palco e da scannerizzare. Gli alberi che nasceranno da questa iniziativa formeranno la foresta dedicata al Next Generation Fest, quindi ogni albero sarà geolequalizzato e fotografato con aggiornamenti periodici sul progetto pubblicati in un diario dell'albero online. E sono stati tanti videomessaggi arrivati durante la Next Generation Fest in corso appunto a Firenze, tra questi quello di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea che ha detto voglio un'Europa per i giovani e anche un'Europa dei giovani. Poi ha aggiunto abbiamo chiamato il nostro programma di ripresa proprio Next Generation EU perché trasformerà l'economia dell'Europa per la vostra generazione. Poi rivolgendosi ai giovani la von der Leyen ha detto che si tratta di una generazione che è una costante fonte di ispirazione per lei, una generazione di sognatori ma anche di creatori e ogni giorno dice spingete i nostri governi ad essere più coraggiosi nella loro azione contro il cambiamento climatico. E c'è anche naturalmente il presidente della regione Gianni che a margine di Next Generation Fest a Firenze ha detto ha parlato di energia, ha detto usciremo con un piano energetico che possa aiutare a leggere come la Toscana in questo momento fra le regioni italiane leader e all'avanguardia per la capacità di essere autosufficiente sul piano energetico e quindi diminuire il peso delle bollette sulle famiglie. Gianni poi ha aggiunto di aver ospitato il rigassificatore a Piombino, di avere tanta geotermia, fotovoltaico, pale eoliche, tutto questo con l'obiettivo di avere una sempre maggiore autosufficienza energetica e perché se non c'è questo poi si aprono alle speculazioni e alle bollette che gravano appunto su famiglie e imprese. E poi c'è un altro intervento importante al Next Generation Fest, quello di Chiara Ferragni, sempre in un video messaggio, che ha detto per me è davvero importante rappresentare e comunicare con i giovani perché sento che le nostre idee, i nostri valori non sono rappresentati a dovere in questa società. Tra l'altro la Ferragni ha ricevuto un riconoscimento dalla Regione Toscana, premio istituito proprio in occasione di questa manifestazione e assegnato a personalità che sono esempio e modello positivo di cittadinanza nel presente del nostro Paese. Naturalmente la Ferragni ha ringraziato ampiamente, ha detto di essere davvero orgogliosa di aver ricevuto questo premio. Il nuovo appuntamento con la Domenica al Museo, anche domani si rinnova l'iniziativa che permette l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Protagonista la cultura in tutto il Paese con le visite nei diversi siti che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura. Alcune delle sedi interessate sono visitabili però esclusivamente su prenotazione. ora parliamo di tempo perché è in arrivo da lunedì la novembrata di San Martino con il ritorno del sole del caldo. Dopo un weekend freddo e ventoso su buona parte dell'Italia con temperature che sono crollate di molti gradi, con l'avvio della prossima settimana il sole potrebbe essere dominante tranne qualche nebbia durante la notte nei fondovalle. Le temperature potrebbero risalire fino a valori miti. Al momento i modelli meteorologici sono tutti concordi nel prevedere quindi l'allontanamento definitivo del ciclone verso la Turchia con la rimonta di un campo di alta pressione sul nostro paese. In pratica si tratterebbe di una fase soleggiata che andrebbe a unirsi alla famosa estate di San Martino che è il periodo autunnale intorno all'11 novembre in cui si verificano condizioni climatiche di bel tempo e tepore. Ma venendo le previsioni dettagliate del tempo per domani per quanto riguarda la Toscana, domani sarà sereno, poco nuvoloso, i venti deboli, i mari trammossi e poco mossi e le temperature minime in calo massime stazionarie con valori in linea con le medie del periodo. È tutto per questa sera, arrivederci!